salve ragazzi benvenuti alla quinta puntata dello sbanca vlad allora ho selezionato ottover veloci sono standard leggi roma basilea porto renne wolfsburg e spagnol e gent è una quota 100 quindi scommettendo due euro potete vincere attorno ai 200 euro sono tre over delle sette cinque delle nove se volete non giocate voi delle sette giocate solo quelli delle nove mettendoci magari un altro over tra le partite che non ha citato anche perché bene o male tutte le partite delle nove sono possibili over quindi gestite voi il vostro budget e la vostra giocata questo è il mio consiglio di giocare così ci sono molti over come l'arsenal sono giocabilissimi ma sono troppo bassi da giocare hanno una quota troppo bassa sono quasi scontati e sono perché no non amo giocare quindi ragazzi ci vediamo domani per lo studio top campionati europei e le scadine del weekend buona giornata buon giovedì buon europa league ciao ragazzi se volete ottenere il 75 per cento di sconto per amazon prime netflix apple music spotify e tanto altro ed avere anche 2 euro e 50 regalo cliccate sul link di due cater price in descrizione ciao 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 ciao